Forse, e ce lo auguriamo, non è una guerra ma soltanto una piccola battaglia. Tuttavia, la sensazione affatto gradevole è che stavolta al posto di due campanili ci siano due montagne, Gran Sasso e Maiella, oggetto del contendere la sede del soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo. A sollevare la questione era stato il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci, che aveva segnalato come il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo avesse speso dei soldi per l'acquisto della sede pescarese. Oggi il Sasa ha risposto così. Questa sede amministrativa dentro l'abbero portuale di Pescara, che è l'unico abbero riconosciuto a livello di Abruzzo, ma ci permette soprattutto a livello di logistica di gestire gli interventi su tutto il territorio regionale, perché devo pensare al territorio regionale, non in particolar modo alcuni gruppi montuosi. In più questo si presta molto, infatti abbiamo condiviso questa sede con la Presidenza nazionale, perché tutti gli istruttori che arrivano da Linato oppure da Bergamo atterrono a Pescara, quindi trovare una sede, poter fare riunioni o preparare la logistica di varie situazioni a cui noi andiamo incontro è molto importante. Tutto questo ci ha permesso di diventare un punto di riferimento a livello nazionale, all'interno del soccorso alpino e quindi non vedo perché bisogna arrivare a questi discorsi che poi alla fine non hanno senso. Quindi noi tra l'altro godiamo di piena autonomia, quindi noi al nostro interno decidiamo quello che dobbiamo fare, ma tutto quello che decidiamo lo decidiamo solo e esclusivamente perché noi siamo preposti ad andare a salvare vite umane. La politica a noi non interessa quello che fa la politica, la politica faccia la politica, noi siamo autonomi e quindi io devo pensare solo e esclusivamente a organizzare la nostra attività in modo che tutto funzioni. Quando ho cominciato ad andare in montagna più di 50 anni fa, eravamo pochissime persone, gli interventi di soccorso erano poche decine l'anno, oggi noi facciamo più di 250 interventi l'anno e io da quando sono in carica, quindi da circa tre anni, non faccio altro nei vari tavoli, in regione, in prefettura, di dire che occorre fare molta più prevenzione e informazione. Mi viene in mente la tragedia del velino, ad oggi cosa le è rimasto di quel dramma? Beh, è stata una cosa molto pesante, se vogliamo, che ha toccato anche la parte del cuore di ognuno di noi e poi devo dire che a tutt'oggi mi è rimasta in particolar modo presente la disponibilità dei cittadini locali, sono state di una squisitezza eccezionale. La loro vicinanza ci ha aiutato sicuramente a sopportare quei giorni che sono stati 25 giorni molto lunghi chiaramente e questo ancora di più dimostra che il popolo abruzzese è un popolo molto vicino, molto attento e molto, diciamo, anche affettuoso se vogliamo. Per quello non ci dobbiamo perdere poi in queste polemiche sterili perché non porta a niente chiaramente. Grazie. 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 Grazie.